Tragedia in Brasile. Si è verificato un drammatico evento nel quale Larissa Borges, una nota influencer nel campo del fitness, ha perso la vita il giorno lunedì a causa di due episodi di arresto cardiaco consecutivi, le cui origini rimangono ancora oscure. La giovane donna brasiliana aveva appena 33 anni. La dolorosa notizia è stata condivisa dalla sua famiglia attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Instagram. In una dichiarazione straziante, i parenti hanno espresso il profondo dolore di dover affrontare la perdita di una persona così giovane, gentile e promettente, sottolineando quanto questo evento sia stato sconvolgente per loro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.